ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono stan vi do il benvenuto qui al canale siamo qui su farming simulator 2019 nella mappa mini brun siamo in compagnia del nostro amico simulator for life che buongiorno e buongiorno buongiorno anche agli amici del mio canale buongiorno a tutti buongiorno e benvenuti a tutti siamo ancora qui una volta in questo gameplay in questa cooperazione esatto questa bella cooperativa pazza e pazza cooperazione pazzissima proprio riprendiamo dall'ultimo gameplay che abbiamo pubblicato nei rispettivi canali perché come sapete questa mappa questa serie esce su entrambi i canali alla stessa ora nello stesso momento diciamo di sì quando quando mi ricordo e quando qualcuno si ricorda perché non mi ricordo vabbè meglio tardi che mai esatto allora però prima di iniziare simulator dobbiamo far sempre le nostre solite attenzioni guarda mannaggia esatto come sempre ragazzi vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanella notifiche per non perdervi nessun gameplay lasciate come sempre un bel pollicione in su che andiamo avanti qui di milioni like come piovesse mi raccomando commentate fateci sapere la vostra condividete il video a destra manga con amici parenti cugini zii nipotti cani gatti che più siamo meglio è notizia tutto in descrizione trovate un link che vi permette di supportare il canale con qualche piccola donazione e vi ringraziamo entrambi esatto e in più in descrizione trovate almeno io parlo della mia descrizione trovate il link per i social network in particolar modo ho aperto un canale telegram un gruppo telegram se volete partecipare e iscrivervi al gruppo telegram link in descrizione cosa facciamo allora cosa facciamo bella domanda allora ci siamo lasciati lo scorso episodio con la semina mi pare ah no con la fertilizzazione no no con la fertilizzazione stavo facendo qualche con qualche lavoretto in giro per la mappa conto terzi esatto per preso le galline se non sbaglio nel sì no due gameplay fa e l'ultimo gameplay gameplay fa tu hai comprato il campo sette nell'ultimo giusto mi non me lo volevo ricordare volevi fare una spesa imprevista di infatti io sono a corto di euri esatto allora però cosa possiamo fare sì molto molto ricco 430 mila euro ricco ricco allora secondo me dovremmo iniziare siamo a metà primavera e va bene però dovremmo iniziare ad avviarci verso l'estate per iniziare a trebbiare perché non è che vorrei tenermi troppo in campo ste colture a sto punto andiamo un po avanti però eh sì dai andiamo avanti che tanto non abbiamo necessità di fare sta sta fieno finché non abbiamo detto esatto animali esatto era solo un'idea più che altro però direi che la scelta migliore mandare avanti iniziare a trebbiare direi iniziare a trebbiarci ste colture e fare o vedo che è arrivato anche un prezzo alto alla filanda adesso siamo a fine primavera sì ecco adesso andiamo a fertilizzare esatto dobbiamo fertilizzare ancora una volta mi pare esatto perché da quello che ho visto no 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 almeno sono tutti e due fertilizzati al terzo stadio tu va a controllare che io devo controllare un'altra cosa però ah tu devi controllare il sette però il sedici il dodici sono fertilizzati al massimo e allora mentre tu mentre tu fai questo ah finalmente si sono decise a sporcare ste ste galline dopo dopo praticamente una stagione intera hanno fatto una macchietta di sporcizia bene l'acqua dov'è sto pollaio qua eccola qua e mi sa che vuole del cibo sì anche le mie vogliono il cibo le galline vogliono cibo però non è che posso starci dietro così tanto io ce le siamo volute comprare adesso ci dobbiamo stare dietro perché resisterebbero un'altra giornata e io aspetterei allora sì va bene io dato che non ho da fare nulla glielo do però ce l'abbiamo la scopa effettivamente qua sì in teoria dovrei avertela messa dentro bene dovrei averla messa inserita sì esatto infatti c'è 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 allora prendiamo la scopetta ora però per caricarla ho bisogno dell'autoload ma pensate se devo prendere l'autoload per una scopa comunque il buio nella season è veramente buio ma proprio buio cioè non so aspetta che fin che stavo passando di qua la cultura è cresciuta di uno stadio io intanto mi sono andato a prendere la la scopa si comunque guarda i gradi che ci sono adesso e siamo partiti da 8 gradi di inverno cos'era autunno primavera primavera a 16 adesso in estate sono solo le sette dell'otto del mattino si prevede un'estate calda bene sì sì comunque sta crescendo molto bene la almeno io parlo della mia avena sta crescendo veramente veramente bene io vado avanti allora sì sì vai vai perché tanto sta venendo su bene almeno non ho visto il tuo orzo ma la mia avena sta venendo bene eh sì effettivamente mamma mia non è rimasto più niente tempo di andare allo shop e tornare va bene ma qual è che non si può lasciare il cibo sul cassone perché sennò perché sennò che succede quello al punto va via bene è pronto si è pronto oh che bello raga sono pronti tutti e tre i campi bene bene abbiamo tutti e tre i campi pronti sistemiamo gli animali esatto e siamo a metà sì hai visto dai sì sì perché abbiamo cominciato subito a seminare esatto abbiamo iniziato proprio il primo giorno quindi bene 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 è andata bene dai è andata bene quest'anno quest'anno vediamo i prossimi vediamo i prossimi allora io mi voglio acquistare una bella trebbia eh te lo dico chiaro dai io vado per la john deere perché new holland le prendo sempre eh vado con la john deere ok io l'ho comprata non so se tu l'hai comprata già sì 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 io l'ho presa ah la new hollandina new hollandina e quella piccolina però con la maggiorazione la lama maggiorata ok io ho preso questa trebbietta che sembra un fungo più che altro però ho detto cari però guarda che cavolo di lama mi fanno portare cioè una roba allucinante e davvero se la tiene o allora io non mi prendo la il carrellino perché proviamo a vedere se ci passiamo lo stesso è tu hai la tu hai la lama piccoletta io invece sono una lama da dieci metri di tocca prenderla il nostro collega è pronto allora in diretta proprio in diretta non riesco a fare la manovra perché c'è il tubo troppo lungo e vado a sbattere perfetta oh allora devo ah no qua non posso abilitare l'andana paglia perché tanto è colza wow figo bellissima sta trebbia che ho preso eh io invece ho problemi perché la barra è troppo bassa e e non ce la non ce la fai no non fa nella lavorazione fatta bene comunque sta trebbia veramente sembra un fungo cioè ti giuro fa ridere però è carina a sto punto facciamo un paio di prove proviamo a prendere questa lama qua ormai e si prova limite dai se no a farmi tre campi così pensavo andasse un po meglio forse sta trebbia che è troppo bassa per qualsiasi lama si può darsi anche perché è creata per una lama molto piccola quindi ok bom scaricato vado al negozio vado la mazzo e torno vai 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 tranquillo io qua nel negozio e qui vicino tanto c'ho la lama abbastanza larga io quindi in un attimo una passata alla mare lasciata qua proprio buttata al suo destino si si lasciata lì intanto la lascio lì poi la restituisco appena capisco quale del quale lama possa andar bene se no restituirò restituisco tutto ma è un disastro sta sta trebbia qua eh sì perché è piccolina e eh sì e quindi risulta complicato per quasi tutte le lame niente abbandonato la nave abbiamo capito sì sì abbandono abbandona la nave niente sì proviamo un po di trebbie con varie modalità esatto poi magari riesci a trovare quella che alla fine ti soddisfa eh cioè capace sicuramente quella che ho preso adesso mi soddisferà tantissimo bene sicuramente con 12 metri certo sicuramente ha preso quella quella sua mi immagino ecco lo sapevo lo sapevo è arrivato è arrivato col trebbione adesso esatto alla fine bisogna sempre seguire le proprie passioni ah certamente hai ragione vedi massey forever endeavor ci trasferiamo da te poi portiamo il raccolto nel silo allora nel frattempo che qua scarica vado a prendere col deuz il cassone e lo porto al campo allora lascio il cassone qua lo rilevo la copertura così meno che possiamo caricare e lo lascio in questo punto un po più larghino ok io non so andare al campo quello io sto arrivando con la trebbia ok o no aspetta paglia ok una bella mititura tipo qua sul 18 esatto e ma non c'è non c'è non mi dà il 18 forse dobbiamo andare un po più avanti col tempo prova prova però ti perdi la missione ad avvolgimento balle non è male 14 mila euro è me la prendo guarda me la prendo già così bene me ne sono prese due ok io invece prima che mani il tempo avanti veloce che non voglio perdermele mi prendo le tre mietiture no no ma non mando avanti il tempo ok 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 comunque per non sapere leggere e scrivere me le prendo lo stesso tre mietiture così almeno recupero un po i soldi della dell'acquisto della trebbia bene ragazzi stiamo trebbiando il campo di simulator for life gli diamo una mano visto che lui ci ha dato una mano a noi esatto e se no qua non andiamo avanti e sì anche perché molto più non so sembra quasi più frettolosa la cosa dover trebbiare per forza perché poi se no passa il tempo mi sembra più realistico sì però un po più frettolosa la cosa quindi è meglio darsi diciamo una mossa sotto questo punto di vista direi ovviamente raga poi tutta sta paglia ce la raccogliamo eh quasi quasi me la vado a me la vado a oh perdono me la vado a al biogas la porto al biogas quasi quasi a che fare è la 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 metto nel nel coso nel sino non siamo sulla ischia ha già cavolo per i bei ricordi a ho già contento ero è già contento già pronto acqua a far due euro hai ragione solo la ischia a meno che non sbagli io ma mi sembra no 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 abbiamo perché per fare a meno che aspetta all'insilato no non serve la non puoi mettere paglia puoi mettere solo erba e mais frumento mi sembra anche ci accontentiamo di vendercela così com'è e via io sono già all'ottanta per cento qua io al 62 al 62 io ok allora finiamo qua e ci concentriamo sulle missioni dai poi ovviamente la come si chiama la paglia me la raccolgo nel prossimo episodio ce la fai qua a scaricare sì se non c'è un burrone qua no no non ce ne è burroni tranquilli tutto piano qua allora mi vado a scaricare il mio rimorchio esatto anch'io lo da scaricare al silo perché sennò poi marcisce tutto il raccolto questa la lascio qua perché come abbiamo detto se non funziona la missione di steppo io qua devo continuare quindi sì sì ho finito ma è piena piena la trebbia ancora c'è ancora vena prova a darci un'occhiata perché sto portando via ah ok ok pensavo fossi sopra proprio lì no pensavo sì ancora al 20 per cento devo allora vado a scaricare poi vai a scaricare e svuota e me la svuoto bene questo posso lasciarla qua allora ci prendiamo le missioni guarda che bel popò di roba che c'è qua e non posso vederlo mi sa ah sì mamma mia mamma mia che di roba guardate che razza di equipaggiamento e la misera ma come mai tutta sta roba sapevo se la missione era uguale per cui ho dovuto prendere tutto doppio tutto doppio ti sei preso perché c'è il campo sul contratto 17 sul campo 17 vuol dire che andiamo a far subito ok allora siccome ci sono due trattori esatto uno te uno io e via dai uno te uno io io falcio tu ranghini ok perché non credo si possa falciare entrambi e non credo perché la trebbia che hai la falce che hai tu è per il campo 1 allora no mi sa di no sì sul campo 17 che è qui vicino ok io tanto ti seguo perché non so la strada allora abbassarlo me lo fa abbassare aspetta che devo abbassare di qua questo veicolo di attrezza riservato a no no niente fermo fermo scendi non mi fa eh no a me sì invece a te sì aspetta che te l'ha fatta di lato però sì va bene ma però il pensavo di aspetta proviamo se adesso qua sono tutte attive no 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 niente non funziona no nada niente non si può fare la missione assieme che peccato mi spiace ti avrei aiutato oh te l'ho spente ti ho spento le falci mi spiace niente allora vado a fare le mie lavorazioni con la bella trebietta devo andare io devo andare devo andare invece al 13 14 20 dove si trovano questi bei campi a proprio qua a fianco a meno che qualcuno non conosca una mod che ci permette esatto esatto di far qualcosa insieme sarebbe una bella cosa perché ci piacerebbe fare le missioni assieme solo che ovviamente se le prende una per il gioco una persona per il gioco l'altra persona non può prenderle quindi in teoria sarebbe bello se potessimo farle insieme va bene dai ci facciamo sta missione qua un pochino e poi vediamo cosa come andare avanti esatto io intanto mi faccio qua le mie belle missioni a mititura che non pagano parecchio ma però almeno ci teniamo in funzione con la trebbia anche perché l'abbiamo pagata un po almeno facciamola funzionare quasi quasi però ho visto delle missioni a fertilizzazione 4 per la precisione che mi potrei fare perché una addirittura 3000 euro mi paga bene io comincio a ranghinare dall'altro ho messo l'operaio a darci dentro cioè fa ridere perché puoi mettere l'operaio ma esatto il tuo impresario che alla fine sono impresario nella tua azienda non posso lavorare con te ma scusa un attimo e se tu entrassi nella mia fattoria però non si toglie la mia proviamo dai no no non credo non credo proviamo non vorrei che se io faccio sì ok la tua c'è comunque sì la mia è rimasta infatti c'è scritto zero giocatori prova a salire sul trattore che sta ranghinando sul fendet e non mi fa togliere l'operaio però sì sì vedi che abbiamo risolto mi fa lavorare qui abbiamo scoperto come far lavorare lavorare assieme che figata che bello raga bene abbiamo scoperto proprio una bella cosa oggi perché sarebbe stato un peccato se no effettivamente non poter fare le cose come volevamo oramai abbiamo finito quindi abbiamo finito abbiamo raggiunto il nostro limite ce ne siamo accorti giusto giusto proprio alla fine della puntata ascoltami io ti consiglio di rientrare nella tua farm esatto per paura che se no si possa esatto perfetto tutto in ordine tutto in ordine almeno credo vediamo se non non vedo nulla di strano ora come ora allora ragazzi per il momento noi ci fermiamo qui ormai abbiamo raggiunto il nostro tempo limite il nostro budget esatto lasciate come sempre un bel pollicione in su che andiamo avanti qui di million like commentate fateci sapere la vostra perfetto bene allora ci vediamo al prossimo video e un saluto a tutti sia i tuoi che i miei follower ciao a tutti bene ciao a tutti ragazzi